Questa storia inizia e finisce a Milano. Da Milano Mussolini parte la sera del 25 aprile 1945. Il dittatore tornerà a Milano tre giorni dopo, ormai cadavere. Mussolini, una morte da riscrivere. Testimoni che si contraddicono, versioni che non tornano. Le ultime ore di Mussolini sono un enigma che ha fatto versare fiumi di inchiopo. Segreti, i misteri della storia. Sabato alle 21.20.